Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci vedremo a Brain Out Ok, sfida a 30 livelli. Proviamo. Trova la tazza vuota. Molto intelligente. Successivo. Non auga, vuole passarsi un po'. Forse un po' di musica, non lo so. Questo è un po' di musica. Il dottor Preoccupazione è un sintetopole, nonché in un dottore bisli. Ecco, mi chiedo quale sia il vero nome del dottor Preoccupazione. Eeeh, anche io. Dobbiamo fare una magia. Il segreto era che aveva un cuore in pancia. Eh, il dottor Preoccupazione ha bisogno di gas per la sua nuova formula. Gas. E sto qua il gas. Vabbè, mangio. Ah! Ecco quale gas. Vabbè, mangio. Ah! Ecco quale gas. Il dottor Preoccupazione ha bisogno di estrarre un cambio di sangue con la zanzara. C'èuna che c'è un po' di gas. Sì, c'è un po' di gas. Ligia, c'è un po' di gas. Abbiamo un città della zanzara, guardami qua, ok, ti ho preso il sangue, ok, il nuovo robot Molto del delto salto con cerione, ha bisogno di essere alimentato. Eeeh... inh... no ah, vabbè perchè loro sono delle spine Strano essere delle spine. Abbiamo bisogno di energia più pulita di questo robot ok abbiamo pulito la batteria e abbiamo messo la batteria dentro devo trovare un modo per scaricare l'elettricità ah dietro non ho capito oh no un orso mi sta attaccando diamogli la corsa diamogli la maglia hai diventato un depo fai in modo che mia sorella la smitta di sbriciare il mio telefono questo fa non mi fa cliccare niente ah siamo giudici e lo vogliamo è impossibile interrompi il suo quanto sto interrompi il mio telefono che cosa posso fare ma che cosa posso fare voglio tagliare il microfono aspetta no abbassando il volume non funziona è buono lo so posso fare ah andiamo a mettere il calzone il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.